Mancano tre giorni alle elezioni in Emilia Romagna. Sono le ultime serrate ore di campagna tra colpi più o meno bassi e tentativi di recuperare ogni singolo voto in una tornata elettorale che nonostante sia di carattere regionale in realtà assume un significato e un peso politico più ampio. Le battaglie della Lega di Salvini, il movimento antisovranista delle Sardine, il governo PD Movimento 5 Stelle, il passo indietro o passo alato dicono i molti, di Luigi Di Maio dimessosi ieri da capo politico dei pentastellati. Sono alcuni dei temi più caldi dell'attualità politica, temi che verranno affrontati domani sera nella prossima puntata di Nessun Dorma, il talk show di ETV in onda ogni venerdì alle 21.20. Quattro esponenti politici di quattro diversi schieramenti si confronteranno a poche ore da un'elezione regionale che ancora una volta peserà le forze in campo e come già accaduto di recente è stata caricata di un peso politico che va ben oltre i confini dell'Emilia Romagna. Appuntamento domani sera alle 21.20 con Nessun Dorma su ETV. Come sempre linee Whatsapp e linee telefoniche aperte per intervenire in diretta.